eccoci qua con il team 6 ciao ragazzi ciao 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 c'è oh my god c'è falo c'è fedekav c'è ron blaster c'è massarasuma e c'è stayed mack o come si pronuncia il tuo nick siamo tutti ignite non ti ho detto si ho detto tutti master asuma ti ho detto ti ho detto no sei fedekav 91 vi ripeto tutti allora oh my god falo fedekav iron blaster master asuma e stayed mack bella 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 ragazzi dimmi quanto me ne dimmi quanto me ne ho andati hop hop ragazzi ci vediamo sull'uscita a sinistra ok perfetto perfetto ah l'ho messo si dopo il vetro mamma mia frizzone no non l'ho messo dove cacchia sono io sono giocino ragazzi oh mio dio sono sponato fuori oh mio dio ragazzi sono sponato fuori quanti sono i oh mio dio davvero caos ok perfetto ragazzi non lo conosce a dirmi perché non ho la spada di diamante eh perché non hai preso il knight lol ragazzi 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 ci siete marco master asuma c'è scendiamo giù e andiamo a sinistra giù 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 c'è il knight va bene ancora 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 quella mod brutta brutta ci siete no vabbè scendiamo giù scendiamo giù dai pure io scendiamo giù scendiamo giù sbroccoliamo qua dentro ci siete tutti sì 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 perfetto marco sta con noi qui no 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 addio marco sei stato un grande amico povero povero mi dispiace tantissimo mi dispiace molto ma dove siete mio buon marco è esploso mamma mia che lag lagone scusate ma dove siete io l'ho perso guarda siamo giù 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 scendi giù scendi giù nel buco a sinistra oddio attento a questo paolo luca con chi sta sono morto vabbè no come sei morto dove sei nel lag sono morto master asuma come al solito fa una miriade di kill no volevo prendere il kit di coso perché è morto vai morto io sono già morto qui c'è cthulhu ciao cthulhu oh sono io oh stronzo 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 ovest stronzo scusami 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 master oddio c'è volta c'è volta chi è sugar sto tizio qua ma vattene ma vattene oh marcus cron un kill se lo fa ragazzi chi è che serve una spada ce ne ho due vai chicken t'abbiamo fatto knight oddio aspettate che mangio un attimo un pesciolino spuzzoloso ah ok ragazzi ci avete cibo vi piace il pesce qualcuno vuole un pescione no no chi è che vuole un pescione eh eh scusami si fallo prendi un bel pescione grazie si mi sono fatto knight avete il cibo marcus ha il cibo si eccolo chi sei tu io eh ok si ho capito chi sei c'è uno 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 c si fa che ho preso 16 si 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 resta volentieri allora 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 quanti siamo ma non siamo tanti comunque domani ma spiace che ne siamo cinque per favolto dai che questo è il nostro o qui c'è un elmetto di diamante non si possono droppare i diamanti marcus qua sopra c'è una cesta qua sopra qui che non si può prendere perchè non si possono droppare i diamanti ok io ho fatto cosa significa non si può droppare i diamanti come lo dimentico di far passare il video falo no come hai fatto non ci credo povero falo ho perso la spada ok ragazzi riorganizziamoci ma laggiù c'è un tizio in full armor di ferro chi è io ah si 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 era lui ok stiamo salendo ma adesso se sei fuori perchè fuori sei morto? no 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 sono dentro sto dirigendo la partita per cinque pesci a zero non vedo nessuno stronzo da mirare io ho perso dove sei si può buccare? ma io ho degli iron bot bot dove sono? dove stanno camperando? ecco lì raggiù siamo noi tre? saluto i ragazzi del mio video da iron bass è tutto ciao ragazzi ciao iron c'è uno qua marcos per caso c'è dei pezzi di armatura che non ti servono aspetta che c'è uno stronzo qua sotto che che? dove è? cazzo mi sono ritrovato sulle scale di nuovo ne sono due dai andiamo andiamo impaviti senza pagliura full armor d'oro no 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 non sei full armor d'oro vabbè ma sei un nabbo sei evidentemente un nabbo full armor full armor di ferro è molto più forte prenditi sta perla dell'ender oddio no posso più correre io guarda lo spuzzoloso io tiro una bella perlozza no cavolo oddio ma come cacchio vieni qua vieni qua dovrai perdere terreno prima o poi si è morto sei morto sei morto sei praticamente morto ucciso oddio 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 come la faccio? ok fede cap allora ragazzi io ho un elmetto d'oro fede prendi un elmetto d'oro grazie poi poi chi vuole una plate d'oro o è meglio di una plate di no chi vuole un elmetto guardate oh mio dio oh mio dio stadmac stai sgracchiando tantissimo scusami dei pantaloni chi li vuole? no nessuno io bisogna di cibo ma se rasuma però ho un elmetto per te tieni ho un pezzo di pane no ragazzi c'è uno dietro ho la lava c'è uno dietro ho la lava che figata mi sento molto il capo bastone oddio sono il capo bastone ma questo è però capo crostone oddio dove cazzo sono finito? oh my god sono uscito fuori è uscito anche ancora anche ancora mamma mia freambolo vieni qua sto morendo sto morendo no 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 ragazzo scusami non parlare ti prego non parlare mutati wuhuu datemi cibo please ho un cuore divisa allora chi è che c'è gli serve il cibo? a me ditemi i nomi ragazzi ok tieni vabbè va te lo do tutto chi vuole armatura? ragazzi io qui ho dei pantaloni con no mi si sciuffa il cibo a me questa me la prendo io scusatemi ah con caduta caduta di piuma ti è master vedete master tua mi dai il cibo a me mi serve il cibo per forza master a chi è che serve? a master a me si vai una bistocca vabbè dai prendi la bistecca c'ho il panino perfetto ok ci manca ci manca caruccio poi chicken andiamo a uccidere chicken no no marcos si eccoci tornati eccoci grazie 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 io le voglio faccio schifo io sono un progo ragazzi chi vuole l'arco glielo tiro qui abbiamo sta merda via 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 una scala 30 pezzi di lana buoni buoni ci possiamo fare tutta la colla che vogliamo un secondo aspettate un secondo allora perché posso ah puoi addare? si dai così vedo il più vicino oddio se state tutti fermi mi viene il panico ho detto che sto frizzando è meglio che faccia il coglione così ok perfetto e dietro a noi marcos me lo fai uno a solo? uno a solo? oh my god mi sta avvicinando da solo vai vai guidaci tu guidaci tu andiamo verso andiamo verso mamma mia guarda che squadrone della morte oddio 5 cascatella a terra no un creccarruccio sopra attenti lì sopra perfetto ergo ergo siete rimasti in 6 vogliamo salendo? io salgo voi se li bersagliate mi fate fuoco di copertura siamo in 2 bersagliate oddio ah ma ma c'ho le underperl che nabbo che sono è fatto l'edito rischio grosso io ah ma ci sono delle scale va bene oh attenti va giù caruccio questa è la vita tu arrivi da solo e poi ti ritrovi contro 4 pro sono in 2 marcos e vabbè fede cav dove sei? sei qua sono qua in un angolino aio aio uff rischio morte saliamo saliamo sono in 2 io avrei l'enderperl però non le spreco ragazzi se salite mi date una mano perchè mi stanno circonnavigando andiamo lasciamo salendo aio 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 sto per morire sto per morire sto per morire addio 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 enderperl enderperl ciao niente marcus scusa io mi mi riparo la vaita c'ho una canna da pesca vai canna da pesca vediamo se abboccano no quanti siete rimasti? quanti siete rimasti? io sono ancora vivo però non so voi dove siete marcus sentiamo una sortita con le cose si va bene io vado dove vai? mamma mia devi morire devi morire devi morire devi morire no fede cav mi hai ucciso oddio vincete per me mi ha ucciso anche me ciao ragazzi grazie ciao a tutti 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 Grazie.